ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube come ogni venerdì andiamo a vedere la promo uscita su fifa parliamo dei foot fantasy che sostituiscono i voti fu usciti l'anno scorso una prova molto simpatica con dei giocatori che possono prendere degli upgrade belli corposi in maniera abbastanza facile mettetevi comodi e andiamo a vedere subito i giocatori usciti prima di andare a parlare di questo rushford ci tenevo un attimo a spendere due parole su quelle che sono le modalità di upgrade di questi giocatori infatti ognuna di queste carte uscita durante il periodo fantasy può prendere l'upgrade in tre modi differenti il primo se la squadra schiera questo giocatore titolare almeno tre partite su cinque in un periodo che è considerato a partire dal primo aprile la seconda possibilità di upgrade riguarda per attaccanti e centrocampisti di andare a segnare un gol o un assist in quelle cinque partite di riferimento mentre per quanto riguarda i portieri invece un cliche in quelle cinque partite infine l'ultima possibilità possibilità di upgrade riguarda la vittoria in almeno uno di quei match di questi giocatori quindi upgrade che sembrano abbastanza facili da raggiungere e passiamo a parlare dei giocatori il primo è proprio rushford che rispetto alla sua versione fuoco e ghiaccio mantiene il 4 di piede debole era la preoccupazione più grande e proprio rispetto alle due carte uscite in precedenza un più 5 di velocità 5 tiro 6 passaggio 3 dribbling 4 difese 83 di fisico abbiamo ormai imparato a conoscere rushford un giocatore che presenta un botità ipunico che attualmente non spicca per quelle che sono le sue abilità palla al piede magari potrebbe aver rinnovato questa sua dote con questo aumento statistico soprattutto per quanto riguarda l'agilità che prende un più 3 l'equilibrio che prende un più 2 però con insieme conseguenzialmente sale anche la forza quindi io sono spaventato da quella che la sua rapidità palla al piede mentre sono molto interessato da quello che è un suo utilizzo sulla fascia visto la gamba lunga lo speed boost e l'ottimo tiro che c'ha quando chiamato in causa quindi sicuramente rushford uno dei migliori giocatori presenti all'interno di questa promo è che andremo a provare nei prossimi giorni con la review sul canale secondo giocatore che troviamo è san maxi man prima versione speciale per lui e insomma mi sembra pronto a fare il devasto perché rispetto alla carta 79 prende un più un 6 di velocità più 21 di tiro più 15 di passaggio 9 dribbling 5 difese 19 di fisico inoltre diventa anche att quindi molto facile da ibridare carta pazzesca per quanto riguarda la velocità c'è anche 86 di finalizzazione con 99 di potenza tiro dei buoni passaggi stra agile anche se pecca un po in reactions visto il suo body type stocky che infatti ne parlavo oggi in live di come questa cosa un po mi preoccupasse e anche un 83 di forza maxi man che però diciamo ci ha abituato ad avere una carta super buggata no nel corso degli anni quindi sarà anche lui sicuramente da intenzionare sia per quanto riguarda il ruolo di seconda punta che di c o c ma soprattutto da esterno per spaccare le partite veramente questo potrebbe essere letale così come letale è anche questo ma simon che praticamente arriva sempre a braccetto insieme a maxi man 75 era la sua carta base prende un più 3 di velocità 16 in più di tiro 20 di passaggio 13 di dribbling 13 di fisico e 9 di difesa quindi upgrade importantissimi anche per questo simon che però presenta anche lui il problema del body type che qui non è presente ma è un average barra stocky quindi parliamo di un giocatore abbastanza tozzo che fa fatica nello stretto poi per carità giocatore estremamente rapido un giocatore che sulla fascia ha quegli scatti brucianti che sono assolutamente devastanti però tocca vedere per bene il suo rendimento in game oltre che nigeriano va bene che di legant ma non è proprio facile da ibridare jérôme roussillon altra carta stra interessante perché la sua nazionalità francese gli permette un facile link in più gli permette anche di poter dare magari manforte con uno strong link alla croix che era uscito in precedenza rispetto alla versione 77 prende più 8 velocità più 8 tiro 8 passaggio 7 dribbling 10 difesa 10 fisico ha il work rate alto normale è stra veloce ovviamente non ve lo sto neanche a dire io body type average quindi abbastanza robusto anche quando c'è da difendere e infatti si devono far valere queste stats difensive che non sono altissime perché rispetto agli standard attuali comunque un 83 di mentalità e un 86 di intercettazioni con 82 di forza aggressività non sono proprio il top però sono comunque delle ottime basi per quello che poi potrebbe essere un triplice upgrade che renderebbe questa carta un similtoz praticamente quindi un altro da tenere sotto controllo roussillon jossessa invece è un portiere di premier league sui portieri mi ci soffermo sempre poco perché vanno provati e anche questo non so onestamente come piazzarlo bene in campo visto che è portoghese e non è che c'ha questi link semplicissimi lì in difesa mentre per quanto riguarda la serie a abbiamo odrio zola terzino destro che si va a schierare in una zona dove c'ha ci sono giocatori di spessore come termian quadrato di lorenzo sodrio zola onestamente non porta niente di nuovo perché un 3 3 si che ha alto alto però è veloce ha dei buoni passaggi ma neanche così buoni statistiche difensive abbastanza così e così rispetto alla carta base si più 7 di velocità 9 passaggio 8 difesa 8 dribbling ma non mi sembra aver portato niente di che magari ne possiamo poi riparlare a triplice upgrade preso inaki williams invece solito giocatore che a me non convince per via del suo body type high head average per via del suo 3 di piede debole ogni volta questo sembra sempre che deve spaccare il mondo e invece si porta dietro i soliti problemi quindi rispetto alla carta 84 si più 3 tiro 2 velocità upgrade neanche così grossi vediamo magari con il triplice che succede però 3 di debole che sapete me lo fanno proprio odiare a morte carta invece molto interessante questa di camavinga perché si va a inserire in un contesto di giocatori di liga santander già bello corposo a centrocampo ma questo rispetto alla carta 82 prende più 10 velocità 5 passaggi 8 tiro 5 difesa 6 fisico e 6 dribbling è vero che ha 3 di piede debole quindi questo un po mi triggera però anche un ottimo alto alto e un body type lean e in ottica triplice upgrade soprattutto il discorso relativo alla velocità e alle stats difensive potrebbe migliorare di gran lunga poi parliamo di un giocatore con gran passaggi con delle buone intercettazioni una buona mentalità difensiva agile con un ottimo controllo palla un'ottima reattività forte aggressivo quindi questo potrebbe essere una specie di suameni diciamo del del campionato spagnolo e potrebbe fare comoda un sacco di squadre per via della sua ibridabilità cluster man invece l'ennesimo difensore di bundesliga con più di 80 di velocità che veramente non se ne può più rispetto alla carta 85 prende più 8 di velocità 3 di difesa e 2 di dribbling sono le stats che più ci interessano pecca sempre per quanto riguarda agilità ed equilibrio però ha stats difensive da fenomeno lieve pecca anche per quanto riguarda l'aggressività solo 80 però ricordiamoci sempre che con l'upgrade potrebbe salire e c'ha veramente una bella carta anche questo cluster man lo andremo a provare così come andremo a provare anche questo gelson martins onestamente mi aspettavo il 4 di piede debole visto che rushford l'hanno lasciato con 4 invece rimane con 3 rispetto alla carta 89 prende addirittura un più 10 di tiro 1 di velocità 4 dribbling 8 fisico 8 passaggio 5 difesa abbiamo già visto in questa versione molto veloce ottimo lo speed boost un discreto tiro che viene molto boostato con un più 6 di finalizzazione un 13 di potenza abbiamo visto l'agilità questo palla al piede dovrebbe fare il devasto anche se occhio al body type power age che un po lo penalizza infatti non si è mai rivelato così agile come dovrebbe dire la carta e questo lo testimoniano anche questi 84 di reattività andando invece in premier league ci ritroviamo davanti a questo van de beck che prende un più 9 di velocità 19 di velocità 7 tiro 8 passaggio 9 dribbling 11 difesa 6 fisico alto normale di work rate un metro 84 e un 33 con un po di type unico ebbene questo 33 non è che mi fa impazzire visto tutti i centrocampisti forti che ci sono mi dà l'idea di un giocatore un po più difensivo anche se a stats la fase un po più avanzata ho paura che in fase di impostazione non renda così bene per via del tre piede debole che non mi dà quella possibilità di girarmi e poi va visto anche questo body type unico che combinato a questo 77 di equilibrio 84 di agilità secondo me lo rende abbastanza piantato per terra quindi osservato speciale anche van de beck stones rispetto alla carta 85 si becca un più 12 di velocità 4 difese 5 dribbling che sono i parametri più interessanti body type high average per lui si va a inserire in un contesto di difensori anche lì in premier veramente colmo di ottimi giocatori onestamente non me la sento attualmente di dire guarda questo lo collochiamo di qua di là perché va provato soprattutto va visto se dopo l'upgrade questa accelerazione aumenta e effettivamente ci dà una resa di questo stones in game che è quella dei difensori top di quest'anno così come non so se ricorderete l'incubo di gimenez rule breaker dell'anno scorso è tornato anche quest'anno più 15 di velocità più 5 di difesa 5 di fisico e 6 di dribbling per quello che si candida essere una validissima alternativa in liga santander certo difficile da ibridare rispetto all'anno scorso però magari con un iorente magari se si mette anche in coppia con milita o se si ha un impronta un po più spagnoleggiante questo può essere assolutamente un buon giocatore anche per lui body type high average può prendere facilmente questo triplice upgrade e diventare veramente veramente solido soprattutto in vista dei tots una sorta di simil tots ma veniamo al piatto ricco di questa squadra perché io lo so che questo l'avete già ad occhiato da giorni e parliamo di nani 5 5 per lui ovviamente tre quartista del venezia mi spaventa tanto questo 81 di accelerazione perché questo 88 di velocità è un po fake falsato dall 81 velocità scalto scusate mentre 97 di velocità di accelerazione poi per carità a un 92 di agilità ma occhio all 88 di reactions e al suo body type che non è proprio dei migliori anche un 85 di forza questo secondo me è un ottimo giocatore di fascia va valutato bene lo speed boost però potrebbe essere assolutamente una pedina fondamentale nelle nostre serie a e infine arriviamo a tonali sbc 3 di skill e 4 di piede debole tonali l'abbiamo già conosciuto rispetto alla versione 84 non prende neanche questi grandissimi upgrade va detto potrebbe diventare top nel caso in cui arrivi a prendere i tre upgrade ma tonali al momento non è che ha fatto segnare prestazioni indimenticabili col milan non è un centrocampista top secondo me è un buon centrocampista ma in serie a preferisco sempre a quel punto un barella scambiabile un milinkovic un che si certo questo se la va tranquillamente a giocare però magari capirei aspetterei un attimo di capire quali sono le possibilità di eventuale upgrade quindi raga questo è tutto per questo team 1 fatemi sapere nei commenti quali giocatori vorreste vedere per primi nelle review e quali siete curiosi voi di provare in descrizione vi ricordo tutti i link e soprattutto la piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che augurarvi una buona serata anzatona riberoschi ciao